Io inizio a lavorare al Frank Rame Project, esattamente a quella che fu poi la violenza di Stato, lo stupro di Stato subito da Frank Rame il 9 marzo del 1973. E per correre più forte mi sono tirata la sottana, via qua, e via qua, tutti i poliziotti dietro a me, madre! Ma cosa volete? Ma sa, andate a casa, niente, mi seguivano, io non riuscivo a seminare! Ci vorranno mille anni per, non è mai troppo tardi per l'amore, per inculcare nella testa della gente nuove idee su sessualità e cosia. Siamo di nuovo a scioperare l'8 marzo dai generi, dal lavoro di cura, da qualunque forma di lavoro, sia salariato che non salariato. Non verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Non verrà un giorno che tutte quante, lavoreremo in libertà.